Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a migliori TV 4K. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo Isense 43. Questo Isense 43 Kled 4K Smart TV è perfetto per chiunque cerchi un'esperienza visiva 4K di qualità. Il pannello Quantum Dot fornisce colori e dettagli mozzafiato, mentre il sistema operativo Smart Vida 5 con Alexa e Google Assistant controlli vocali offre una ricchezza di funzioni e app. Con il wifi integrato e il telecomando, questo televisore è facile da usare e perfetto per qualsiasi stanza della tua casa. Se stai cercando un televisore 4K top di gamma, l'Isense 43 Kled 4K Smart TV è una grande opzione. Con il suo pannello Quantum Dot e il sistema operativo Vida 5 Smart, questo televisore offre colori e dettagli mozzafiato, nonché una ricchezza di funzioni e app. Inoltre, con il wifi integrato e il telecomando, è facile da usare e perfetto per qualsiasi stanza della tua casa. Ordina il tuo oggi stesso! Numero 4. LG TV Questo LG TV 43 LEDU HD 4K Smart Wi-Fi nero HDMI USB è una grande scelta per chiunque cerchi un'esperienza visiva di alta qualità. Con la sua risoluzione 4K Ultra HD, questa TV fornisce immagini mozzafiato e dettagli che sono sicuri di impressionare. Inoltre, le sue capacità Smart TV consentono di accedere a una gamma di contenuti in streaming e applicazioni con facilità. E grazie alla sua connettività Wi-Fi, Ethernet e Bluetooth, puoi goderti i tuoi contenuti preferiti senza alcun cavo. Questo televisore LG è anche dotato di una ricchezza di funzioni che lo rendono facile da usare. Con il suo pulsante One Touch Access, puoi accedere facilmente a tutti i tuoi contenuti preferiti con la sola pressione di un pulsante. E con il suo Voice Remote, puoi controllare il tuo televisore con facilità usando solo la tua voce. Inoltre, il suo Magic Remote ti permette di controllare il televisore con semplici gesti della mano. 3 gradi posto c'è Samsung TV. Design sottile, linee moderne e un pannello posteriore pulito con gestione dei cavi nascosta sono le caratteristiche di questo TV. La cornice stretta rende il profilo ancora più sottile. L'elegante supporto in metallo è progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento della tua casa. La piattaforma Samsung Smart TV fornisce l'accesso ai contenuti della TV in diretta, alle applicazioni e altro ancora, tra cui Netflix, YouTube e Amazon Video. È inoltre possibile utilizzare i comandi vocali con il microfono incorporato per cambiare canale o cercare spettacoli sui servizi di streaming semplicemente parlando nel tuo dispositivo di controllo remoto. Il 49 pollici 4K Ultra HD Smart TV ha quattro porte HDMI per collegare i tuoi dispositivi, tra cui una console di gioco o un lettore Blu-ray. Numero 2. LG I TV UHD di LG dispongono dell'intelligenza Team QI per raccogliere tutti i servizi in un unico hub. La TV LG integra DVB, T2 e WC Main 10 compatibile con il prossimo cambiamento dello standard digitale terrestre. Il processore regola automaticamente l'immagine, disabilitando lo smoothing del movimento per un effetto full motion che ti permette di godere di sport e film d'azione senza alcuna sfocatura. Ed elimina il rumore nei video e crea colori e contrasti più vividi. Clicca sui link per vedere la video recensione. Il televisore ha un design molto elegante ed è molto sottile. Anche le cornici dello schermo sono molto sottili, quindi non occupa troppo spazio sulla vostra parete. Il televisore viene fornito con un supporto che si può utilizzare o si può rimuovere se si vuole appendere al muro. Fine, il numero 1 della nostra lista. Isense. Isense 4K HDR10 Plus ti permette di riprodurre contenuti HDR e HDR10 Plus da fonti compatibili. Smart TV vi dà AU3.0 ai per godere delle migliori app, prime video, Netflix, Dazon, Team Vision, Killitva Alexa Buitin. Alexa vive nel cloud e diventa sempre più intelligente, offrendo automaticamente nuove funzionalità al tuo dispositivo. Tecnologia precision color per riprodurre colori più accurati e naturali ricezione e connettività, tuner DVB-UT2-S2EVCHLG2X2 Dual Band Wi-Fi, Ethernet, USB 3.0 X2, HDMI 2.0 con HDR10 Plus, uscita audio-ottica. Il televisore Isense 4K HDR10 Plus è un'ottima scelta per chi cerca un'esperienza televisiva premium. Con le sue capacità HDR e HDR10 Plus, è possibile godere di contenuti da fonti compatibili con dettagli e colori sorprendenti. Per sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.